Continuano le indagini a Messina per far luce sulle cause dell'incendio, che l'altro ieri notte ha distrutto l'auto del CIRS, il Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale, che protegge, ospita e sostiene donne vittime di violenza. Le fiamme sono divampate in via San Paolo, a monte della screnata che porta alla sede della struttura messinese. Nell'arrogo è rimasto completamente distrutto uno dei mezzi che il CIRS utilizza per le proprie attività. Al momento non è esclusa alcuna pista, dal Comitato fanno sapere che non ci sono elementi per avere la certezza che si tratti di un incendio doloso. Intanto però il danno subito è enorme, il mezzo prevalentemente veniva utilizzato per gli spostamenti dei soggetti in difficoltà, per questo il Comitato lancia un appello. Abbiamo bisogno, dichiarato la Presidente del CIRS, Maria Celeste Celi, di un altro mezzo per continuare a svolgere le nostre attività e le incombenze quotidiane della casa famiglia. Siamo sconcertati ed amareggiati e se le autorità competenti devono accertare la matrice dolosa dell'incendio, si tratterebbe di un gesto vile e deprecabile ai danni di un ente che svolge un ruolo importantissimo a favore di donne e bambini in difficoltà. Il mezzo andato distrutto era, evidenzia ancora Maria Celeste Celi, l'unica autovettura a disposizione per svolgere le mansioni quotidiane della casa famiglia. Adesso persino accompagnare una mamma o un bambino da un medico diventerà difficile. Da qui il mio appello, con quello della Presidente, alla generosità degli imprenditori messinesi o di semplici cittadini che abbiano un'auto e vogliano donarla al CIRS, oppure la vogliono acquistare per noi compiendo un gesto di cuore.